E' scattata all'alba di oggi l'operazione dei carabinieri del nucleo operativo ecologico del comando provinciale di Milano che hanno arrestato imprenditori lombardi attivi nel settore del movimento terra. L'accusa parla di legami tra l'imprenditoria locale e alcune famiglie calabresi legate all'Andrangheta. Gli imprenditori arrestati si sono aggiudicati diversi appalti in cantieri di Milano e dell'Interland attraverso il sistema del girobolla che falsifica sulla documentazione la vera natura del rifiuto sarebbero riusciti a smaltire illecitamente tonnellate di rifiuti in due cave dislocate in provincia di Lodi e Novara. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di denunciare in stato di libertà altre 20 persone tra autisti e padroncini la cui presenza all'interno delle aziende degli arrestati veniva imposta dalle cosche. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno sequestrato due aziende di trasporto, due impianti di trattamento rifiuti e 30 automezzi utilizzati per il trasporto delle terre inquinate. Intanto il comandante della legione carabinieri della Lombardia, generale Marco Scursatone, ha stilato il bilancio dell'attività dell'arma nel 2012 alla vigilia della cerimonia per il 199esimo anniversario della sua fondazione. L'impegno dei circa 9.400 militari della legione ha portato a oltre 600.000 servizi preventivi, dei quali oltre 33.000 svolti dai carabinieri di quartiere. Sono stati inoltre identificati in 51.000 casi gli autori dei reati, arrestate 12.000 persone e denunciate oltre 50.000, in aumento rapine e furti soprattutto in casa e in particolare quelli di rame.